Siamo con Sua Eccellenza, Vescovo Borghetti. Che Natale ci aspetta? Indubbiamente dal punto di vista cristiano è un Natale come tutti gli altri. Dal punto di vista del contesto in cui queste celebrazioni natalizie si collogano, abbiamo tutti la consapevolezza di essere in un contesto un po' particolare. È un Natale, qualche volta mi viene da suggerire, surreale, un po' particolare. Ecco, certamente siamo segnati dalla presenza di questa perdurante epidemia che limita non poco i nostri contatti, soprattutto anche quelli con le persone più care. Però abbiamo la consapevolezza che è una transizione, ne siamo convinti di questo. Vediamo un po' sul fondo una luce che si sta accendendo e quindi siamo anche animati dalla speranza. Il Signore Gesù, che è già entrato nella storia, e questo è il grande ricordo, la grande memoria che facciamo nel giorno di Natale, non abbandona di certo i Suoi figli. Quindi abbiamo tanta speranza, abbiamo tanta, come dire, accanto all'amarezza di dover rinunciare necessariamente, doverosamente, a tanti contatti, a tanti momenti di convivialità un pochino più spensierati, però abbiamo anche la certezza che tutto questo sta passando attraverso anche l'impegno della scienza, della tecnica e anche della nostra preghiera comunitaria come cristiani. Grazie, Cellezza. Prego.